Ciao a tutti, durante un interessante progetto innovativo sulla condivisione delle presentazioni tramite semplicemente il cellulare abbiamo parlato dei 7 consigli di Drucker che oggi vorrei condividere con voi 1. Prima di definire i task che hai da fare, definisci il tempo che hai a disposizione 2. Identifica subito le attività che ti fanno perdere tempo senza valore aggiunto 3. Seleziona quale attività si possono delegare 4. Evita di far perdere tempo agli altri 5. Identifica i picchi di lavoro ricorrenti e pianificali di conseguenza 6. Trova e risolvi dove si ferma l'informazione 7. Lavora in modo che l'organizzazione sia fatta bene, sia professionale che personale e per concludere, la riunione non dovrebbe essere la norma, ma un'eccezione fatemi sapere voi cosa ne pensate così ne discutiamo concentrazione, concentrati in azione